Incredibile, finisce 0-0 Bologna-Napoli, un Napoli irriconoscibile, un Ozyman cugino di se stesso, perché praticamente non c'entra nulla con l'Ozyman che abbiamo visto fino a qualche mese fa. E pensare che De Laurentiis aveva risposto, ironicamente, agli arabi dicendo che con 200 milioni di euro potevano acquistare soltanto le scarpe, anzi una sola scarpa di Ozyman, penso che in questo momento De Laurentiis stia chiamando come un disparato gli arabi per offrire Ozyman non solo le scarpe, ma tutto il giocatore per molto meno, perché questo calciatore che abbiamo visto non è più l'Ozyman dell'anno scorso. Molto probabilmente la spinta che dava Spalletti non riesce a darla a Garcia che sta portando al baratro questa squadra, squadra che l'anno scorso ha vinto il campionato che ha dimostrato di esprimere uno dei giochi, a detta di molti addetti ai lavori più bello d'Europa, che si ferma contro la Lazio di Sarri, che ha perso finora quasi tutte le partite, che si ferma contro il Bologna. Nonostante un calcio di rigore molto, molto, ma molto dubbio, a cui siamo sempre a parlare degli episodi che possono decidere le partite, perché grida scandalo, il calcio di rigore assegnato al Napoli per un tocco di mano in caduta da parte del difensore, calcio di rigore ricordiamo non dato a favore della Juventus contro il Bologna per un episodio simile, anzi in quel caso là era molto più netto il tocco di mano e soprattutto l'entrata in scivolata ad andare a togliere il pallone dalla disponibilità di Chiesa che poteva battere a rete. Ma parliamo di questa partita un Napoli che ha avuto le possibilità per portarsi in vantaggio ma che le ha sprecate tutte. Io ve l'ho detto, sembra strano che Giuntoli vada via da una società che dopo 33 anni vince il campionato, Giuntoli che lavora lì per 8 anni e poi a un certo punto decide me ne vado. Spalletti stessa, identica cosa, vince il campionato con un Napoli che non arrivava in vetta alla classifica di Serie A da 33 anni, si tatua lo scudetto sul braccio, si tatua lo stemma del Napoli e poi scappa di notte per non lavorare più con i partenopei. Un motivo c'era, io ve l'ho detto, è finita la magia dello scudetto a Napoli perché, come si era già detto e come si era sentito dagli addetti ai lavori di Gravina e non solo, ogni anno deve vincere una squadra differente. Quest'anno vediamo se riusciranno a consegnare la seconda stella di cartone all'Inter, tutto sembra apparecchiato per una vittoria facile, vedremo come si svolgerà il campionato. Comunque Napoli in riconoscibile, Garzia che sta distruggendo tutto quello che di buono aveva creato Spalletti e noi non rimane che godere perché ci avevano detto che Napoli era la squadra che poteva insegnare come si crea un filotto di vittoria, come si può essere vincenti, belli ma soprattutto onesti. Adesso stiamo vedendo che la magia scompare per il dispiacere dei nostri amici napoletani e la goduria di noi juventini che l'anno scorso ne abbiamo sentite tante. Comunque ditemi voi qua sotto nei commenti che cosa ne pensate. Napoli disastroso, Bologna che regala un rigore ma questa volta non si lamenta. Non credo che arriverà a Rocchi a dire qualcosa per quanto riguarda il rigore concesso al Napoli, ben accetto da parte di tutti gli addetti ai lavori della Bologna che nessuno ha... Bologna appunto che... del quale nessuno si è lamentato per questo episodio. Il video finisce qui, un saluto a tutti, un abbraccio, buonanotte, ciao a io...